Come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa ruota attorno a quella che è la giornata mondiale dell'acqua. Noi come Comitato osserviamo il canale Navile, siamo impegnati da anni su questa realtà che appunto è stato il motore della città di Bologna attraverso l'utilizzo dell'acqua e abbiamo pensato di attivarci proprio per parlare di acqua, della sua forza, della sua importanza. E nell'organizzare questo evento abbiamo avuto modo di metterci in relazione con altre realtà sempre che proponevano attività legate all'acqua e abbiamo creato un cartellone ricchissimo di appuntamenti, circa 44 sono, quindi abbiamo tantissime realtà che promuovono queste attività legate appunto all'acqua su tutta la città di Bologna e tutto nasce ovviamente comunque dalla via d'acqua principale che è quella del canale Navile. Un'iniziativa molto importante dove tutte le associazioni e le istituzioni che lavorano sulle acque di Bologna e in particolare sul canale Navile nell'ambito delle giornate dell'acqua danno un segno molto importante di come le acque siano un elemento identitario della città, quindi iniziative culturali ma anche di grande sensibilizzazione in un momento dove l'acqua è un bene sempre più prezioso, viviamo una siccità drammatica e temiamo una primavera, un'estate veramente molto difficoltosa aumentata da altri problemi, probabilmente verranno messi a coltivazione più terreni e quindi servirà più acqua, questo andrà in contra, come dire, metterà in competizione l'acqua che serve alla rete idrica, alla rete dei canali bolognesi con l'acqua in rigua, insomma sarà un'estate non facile se non arriva, arrivano delle piogge consistenti. Ecco, Sessore, qual è la situazione del Navile? Il Navile dopo che fino a 10-15 anni fa, insomma, diciamo la città ancora non si era accorta dell'importanza di questo luogo, dopo la ciclovia e dopo i lavori fatti dalla Bonifica Renani insieme alla Regione del Comune, sta assumendo una rilevanza molto importante anche dal punto di vista della manutenzione, dal punto di vista della qualità ambientale. È un canale antropico, quindi non va confuso con un normale fiume, quindi va tenuto, manutenuto in un certo modo, ma è un elemento sempre più importante per l'amministrazione che non a caso è deciso di dedicare uno dei sei assi, asset dell'impronta verde, cioè di quei luoghi di Bologna che dovranno diventare tutti gli effetti dei parchi, così come sarà un luogo importante per la città della conoscenza recuperando degli immobili importanti.